Ok, allora benvenuti, dunque facciamo questo incontro Godot2D e cercheremo di risolvere alcune delle domande che mi hanno fatto intanto che stavamo preparando il corso stasera, quindi sono arrivate un po' di richieste, quindi hanno richiesto fondamentalmente come si inserisce un background, come scegliere più di un'animazione su uno sprite, questo magari poi mi scrivete un attimino meglio in chat, cosa intendete, come gestire una collisionaria, mi hanno chiesto salto multiplo e poi soprattutto interessantemente eravate molto interessati ad avere un po' di spiegazioni migliori sulle monete. Ora, partiamo da un esempio molto semplice, quindi partiamo come si inserisce un background, quindi background vuol dire che voi volete mettere uno sfondo che non sia questo grigio. Partiamo magari, allora, partiamo da un progetto, esce liste progette, non salviamo. Andiamo sul Hoppy Days, che è il progetto che avevamo presentato qualche paio di settimane fa, quindi entriamo su questo progetto, più che altro perché qui abbiamo un po' di cose già fatte, quindi abbiamo delle immagini, anche degli sfondi o delle altre cose. Direi, costruiamo una scena, quindi la scena la costruiamo, costruiamo una scena 2D, e in questa scena 2D la chiamiamo prova sfondo e proviamo a vedere se riusciamo a inserire uno sfondo in questa scena. Allora, lo sfondo non è uno sprite, perché lo sfondo rimane fermo, quindi sarà un oggetto, non so se sia un texture, potrebbe essere un texture rect, andiamo, è un controllo for drawing textures, però un secondo che controllo nel livello 1, che era quello che aveva uno sfondo, e questo sfondo, vediamo un po' dove l'avevamo messo. Vabbè, facciamo delle prove per, non mi ricordo, un secondo. Comunque, cominciamo a scaricarci un oggetto che vogliamo fare. Ah, tu hai provato con texture rect e non ti era riuscito. Comunque, proviamo a salvare questa immagine e proviamo a vedere se questa immagine la possiamo mettere come sfondo. No, il tilemap è una cosa abbastanza complicata, che non vi raccomando. Quindi facciamo un save image, prendiamo questa immagine, che chiamiamola montagna. Montagna, montagna, e la spostiamo, copia, facciamo copia di questa immagine e ce la mettiamo sotto Godot. Quindi andiamo sotto, sotto dove abbiamo qui tutte le nostre cose di Godot, e facciamo open file manager, e qui andiamo a fare incolla, e abbiamo messo questa montagna appunto jpeg. Proviamo a usare effettivamente texture rect, come anche qualcuno sta proponendo, nel senso che proviamo a prendere un oggetto e cerchiamo texture rect, e abbiamo texture rect, e texture rect vuole una texture. Quindi qui dobbiamo prendere la texture, proviamo a vedere cosa succede, a prendere la montagna, e a metterla qua. Dovremmo avere lo sfondo effettivamente caricato, che potrebbe essere già buono. Tra l'altro me l'ha fatto delle dimensioni esattamente come mi interessa. Quindi questo, secondo me, potrebbe già andare. Quindi qua, se poi voglio aggiungere un mio personaggio, devo, quindi nelle scene, qua, qui ci sono, per esempio, forse c'è un player. Posso agganciare un player, e avere il mio player, che è uno sprite che si muove. Quindi questo sprite, vedete che si dovrebbe, che c'è anche uno script di movimento là dentro. Quindi questo qua, se io faccio il play di questa scena, salviamo la scena, la chiamiamo prova sfondo, la eseguiamo, Ah, ecco, questo qui è caduto. Godot si è piantata. Allora, torniamo un attimo a prova sfondo. Il problema è che lui mette la visibilità in funzione di come sono disposte qua. Laura, quindi se tu hai il tuo, se tu il giocatore ce l'hai dopo, text to rect, lo vedi davanti, ma se tu lo metti prima, così, va dietro. Quindi lui fa vedere le cose in funzione di come le vedi qua. Quindi prima dipinge lo sfondo, quindi questo possiamo chiamarlo sfondo, ad esempio, e poi dipinge il giocatore. Ora, il giocatore, essendo che c'ha la gravità, perché nello script di questo signore qua c'è uno script che gestisce la gravità, lui va a fondo e quindi per evitare che vada a sfondo dobbiamo metterci un'altra scena sotto che eviti che vada a sfondo. Quindi facciamo un link, una scena già fatta, che è per esempio una piatta... Dunque, vediamo un po' se abbiamo... piattaforme. Ah, qui mi ha messo tutte le piattaforme, che non è un bello, quindi te togliamo. Ecco, qui ci... Per come è fatto questo gioco? Lui l'ha messo come tileset. Quindi se vogliamo usarlo come tileset, qualcuno mi ha chiesto cosa sono i tileset, dobbiamo aggiungere proprio un tileset, tile, tile map, scusate. Tile map che è agganciato al... No, facciamolo magari molto più semplice. Togliamolo. Elimina nodo. Partiamolo proprio dalla base. Quindi andiamo proprio sui disegnini, ci prendiamo l'environment, ci prendiamo un... uno di questi. Ecco, lo mettiamo qua, diventa uno sproiettino, quindi lo vogliamo mettere come... Ah, tra l'altro ecco questo, Godot 3.1, adesso ci ha messo questa... Questa cosa interessante è che quando metto una texture sulla mia scena, mi chiede come la voglio implementare e per dire, potevo anche prima mettere lo sfondo in questo modo, trascinandolo direttamente. E lui me lo poteva mettere come texture rect. Però noi adesso lo mettiamo come sprite, questo, ground grass, e se vogliamo che il nostro omino, diciamo, collida con questo oggetto, dobbiamo mettere questa cosa qua come fosse un... Dunque cos'è? Un rigid... Un physics body. Andiamo qua, body. Dobbiamo metterlo tutto blu, quindi mettiamo uno static body. Static body sono tutti gli oggetti che devono stare fermi. Quindi static body 2D e dentro static body ci mettiamo il ground grass e ci dobbiamo mettere anche la collision. E la collision lo si può fare aggiungendo. Tra l'altro lui mi dice qua che ho detto che manca la collision, quindi bisogna metterci la shape, quindi facciamo più. Mettiamo collision shape 2D. Ok? La collision shape 2D... No, magari facciamo la bella, quella che ha fatto vedere Emanuele, che è una più... Collision... 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 Collision Polygon 2D. E Collision Polygon 2D vi dà la possibilità di indicare... Quindi io semplicemente una volta che l'ho messo poi posso semplicemente fargli tutta la forma. e questa qua diventa la Collision Polygon 2D. Quindi in questo modo io ho fatto... Se io faccio il play di questa scena... Ecco, vedete che il mio... perché si è bloccato... c'è qualche cosa che non va... nella... Non so se... Aspetta, proviamo a uscire a rientrare un secondo dal progetto. Quindi questo qui prova a sfondo. Ground grass. Posso riprovare, vedere... Aprire gestione progetti. Hoppy days. Andiamo nella mia... Quello che ho chiamato sfondo. Filter nodes. Cioè una ricerca. Search files. Quindi qui potrei dire sfondo. Sfondo. Ecco. Qui se scrivo sfondo qua mi cerca le cose che hanno quel nome. Quindi mi apro il mio... La mia cosa. E... Ah, perché lui gli aveva detto che nel progetto che andava full screen. Ok. Quindi era quello il motivo per cui andava in quel modo. Vediamo un po' se riusciamo a vederlo di impostazione del progetto. Forse conviene crearlo Xnova. Comunque... Solo per capirsi. Adesso avete seguito questi pezzi che abbiamo fatto finora? Magari apriamo un progetto Xnova così lo vediamo senza... senza tutte queste... Senza la complicazione del progetto originario che c'ha un bel po' di cose che magari non... non... In questo momento possono disturbarci. Quindi io posso... Facciamo così. Apriamo... un altro Godot. E tanto per cambiare facciamo un nuovo progetto. Lo chiamiamo... Pro... Ehm... Ricominciamo. Quindi adesso c'è... Non c'è niente dentro. Ci mettiamo inizialmente solo uno sfondo. Quindi facciamo... Quindi show in file manager. Ok. Ok. E poi andiamo qua. E ci scarichiamo. Montagna. Copio qui. E poi vediamo se riusciamo a copiarci qualche altra cosina. Quindi abbiamo GFX. Layers. E mettiamo... L'orsetto. No. Il coniglietto. O alcuno... No. Stand. E ridi. Questi due. Li mettiamo qua. Così ripetiamo... L'animazione dell'orsetto. Del coniglietto. E poi in più ci mettiamo ancora... Environment. Ci mettiamo... Ground grass. Ok. Copio qui. Quindi vedete che abbiamo preso semplicemente le due immagini del coniglietto. La... La terra. E... Poco più. Vediamo un po' cos'altro abbiamo qua. Di... Scripts. Se poteva essere uno script del player. Ecco questo possiamo portarcelo dietro. Copio. Quello che è. Ok. Allora. Adesso rifacciamo quindi... Torniamo al nostro progetto. Lui si importerà tutti i pezzi che abbiamo. Vedete? Quindi si è visto. Ecco qui tra l'altro di questo Godot 3.1 Beta 3 si vede maluccio la preview. Ma partiamo con una scena totalmente nuova. Quindi facciamo due di scene. E questo mettiamo una scena con dentro il background. E dentro questa scena cominciamo a metterci prima il background. Se lo mettiamo... Abbiamo visto... No. L'ha messo come sprite. Prima non l'aveva messo come sprite. Quindi... Elimina nodo. Quindi facciamolo nel modo che abbiamo fatto prima. Quindi cos'era? Rect. Era texture rect. Quindi introduciamo un texture rect con questa immagine. E poi ci dobbiamo fare lo sprite. Lo sprite. Vi ho detto che lo facciamo animato. Quindi facciamo un background. Aggiungi nodo figlio. Sprite. Animated sprite. Questo. Nell'animated sprite ci mettiamo un new sprite frames. E poi qua ci mettiamo le animazioni. Quindi questa animazione... Mettiamo animazione fermo. E poi ci mettiamo uno e due. Questa è l'animazione che... Vedete che c'è il nostro coniglietto che fa il suo mestirino. Abbiamo detto che perché questo si muove dobbiamo mettergli tutta quell'impalcatura di kinetic eccetera. Quindi lo facciamo... Prendiamo un kinetic... Kinematic body. Sotto il kinetic body ci mettiamo l'animated sprite. E poi la figura di collisione che abbiamo detto che ci va. Quindi più... Collision shape 2D. Questa la forma capsule. E poi la stendiamo. Ok. Più o meno. Magari un pochetto più piccola. Quindi questo qui è il nostro kinetic body e che è il nostro oggettino. A qui ci aggiungiamo anche lo script che lo fa... Lo fa muovere. Quindi per metterci lo script... Andiamo qui. E c'è lo script player. Che è questo. Quindi in questo modo lui... Abbiamo l'animaretto e abbiamo... Dobbiamo metterci il famoso ground grass PNG che lo mettiamo come stavamo facendo prima. Quindi uno sprite. Mettiamo allo stesso livello del kinetic body. E questo abbiamo detto che dobbiamo mettercelo come uno... Sempre come un body ma come un static body 2D. Quindi rifacciamo la cosa che abbiamo fatto prima. Questo dobbiamo metterlo come figlio. Allora. Ground grass è figlio di static body. E poi dobbiamo metterci la sua collision. Quello che ho fatto prima. Quindi facciamo più. Collision. Collision polygon. E la rifaccio brevemente. Ok. Però deve essere figlia di questa. Ok. Così sembra che sia tutto più o meno posto. Ah, una cosa. Qui gli sclicco questo tastino qua che permette di muovere questa piattaforma tutto in blocco. E la stessa cosa anche qua. Kinematic void. Gli metto questo in modo tale che quando adesso muovo questo si muoverà tutto in blocco. Quindi con tutte le sue pezzettini. Vediamo se adesso siamo un po' più fortunati. Cioè se lanciamo questa scena. La salviamo. Facciamo background. Salva. Ah. Perché questo. Perché questo. Ah. Era. Beh, lo script diciamo lo prendiamo. .gd. Qui ci sono quelli più o meno che abbiamo visto le altre volte. Vediamo un po' se questo script qua era quello che abbiamo fatto noi. Eh, potremmo vedere se questo script potrebbe funzionare. Questo qui dovrebbe fare sia il movimento verso destra, sinistra, c'è anche le animazioni. Ah, ok. Vabbè, adesso era solo per vedere. Adesso qui il fatto che lampeggi è perché gli mancano delle animazioni. Gli manca l'animazione di andare a destra, a sinistra. Ma vedete che abbiamo fatto il nostro cosino. Quindi, in teoria, abbiamo rifatto un bel po' di cose di quello che mi avete chiesto. Vi sentite ancora, vero? Allora, dunque, vediamo un attimo l'elenco delle domande. Allora, come inserire un background diciamo che l'abbiamo visto. Ora, vediamo un attimo invece come... Allora, le collision area più o meno l'abbiamo visto. Dunque, allargare la scena di lavoro qua, cioè se l'allargate così vedete che mi fa vedere solo il pezzo in cui è, diciamo, in cui avete fatto le cose. Per fare in modo tale che si estenda la scena a sinistra e destra ci sono dei piccoli trucchi che però non vi farei vedere adesso. Magari le prepariamo in alcuni video. Magari, ecco, questo mettiamo da fare. Ecco, allargare la scena cosa intendi? Sì, solo come farlo vedere full screen quando parte. Per allargare la scena credo che sia anche un'impostazione di progetto. Dovrebbe esserci da qualche parte un'impostazione che dice... Solo che adesso non me la ricordo dov'è. Mi scrivi esattamente? Sì, ma allargarla quando sei in play, no? Per avere più oggetti. A parte che sai che se hai la camera associata, poi tu ti muovi e puoi girare e vedere tutti gli oggetti. Quindi, se no, qua quando progetti allarghi la scena in questo modo. Cioè, con la rotellina centrale del mouse, te l'allarghi. Se no, anche questa qua la puoi allargare. È solo che se l'allarghi questa qua, in questo momento non si aspetta. Ecco, così la puoi allargare così e puoi mettere molte più scene. Quindi, una prima risposta sullargare la scena è questa. Ecco, c'è una cosa che non vi ho mai fatto vedere, ma che secondo me è interessante. E che alcuni di voi mi hanno chiesto, ma come faccio a scegliere se devo fare una sottoscena oppure no? Allora, qui c'è la possibilità di trasformare una cosa che ho già scritto qua in sottoscena senza doverla rifare da capo. Nel senso che se questo Kinematic Body me lo voglio salvare, cioè fare come sottoscena, facendo tasto destro c'è un'opzione che si chiama salva ramo come scena. Aspetta, magari lo chiamiamo player o anche addirittura coniglietto. E se faccio tasto destro e salva ramo come scena, lui mi crea una scena che si chiama coniglietto. E qui mi crea automaticamente il link. Quindi questo è un modo, diciamo, per costruire le cose in maniera progressiva. Cioè voi costruite le cose come se non ci fossero le sottoscene e poi se a un certo punto definite che il coniglietto è una sottoscena, lo trasformate in sottoscena, quindi diventa tutti gli effetti. Qui cercate il coniglietto, vedete che è comparso la sottoscena del coniglietto che se la cliccate vi fa vedere soltanto il coniglietto. La stessa cosa, tornando a questo, controllo s, lo prendiamo. Questa piattaforma la potete trasformare in una sottoscena, quindi salva ramo come scena e diventa piattaforma.tscn, lo salvate. Questo vuol dire che voi potete inserire un'altra piattaforma facendo il link. Quindi il link, piattaforma, viene una seconda, dovrebbe... Ah sì, perché è venuta figlia di quella, quindi metterla così. Qui c'è piattaforma 1, piattaforma e piattaforma 2. Se spostate questa piattaforma e poi potete fare anche CTRL D, CTRL D, CTRL D e mettervi altre piattaforme. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, no, ce n'è una ancora che possiamo tirare fuori. Quindi così come avete visto abbiamo, grazie al fatto che ogni piattaforma è diventata una sottoscena, le potete elencare una insieme all'altra. Quindi se io lancio il mio... Adesso qui mancano delle animazioni e salta male perché mancano delle animazioni. Voi dite come faccio a... Ah, qui dovrei aggiungere le animazioni che mancano. Quindi faremo fare aggiungere le altre animazioni che mancano. Allora qui intanto le animazioni che prendeva era fermo e corsa. Quindi gli mettiamo la seconda animazione. No, il finale call non funziona perché il call usa le mesh per calcolare la collisione. Invece su un'immagine devi per forza farlo, non c'è un sistema automatico, perché proprio non c'ha delle mesh, non sa dove finisce e dove iniziano le varie cose. Comunque andiamo nel nostro coniglietto che abbiamo visto che adesso ha una sua animated sprite che c'è fermo e abbiamo visto che gli mettiamo ancora la corsa giusto per vedere quell'effetto di animazione. Quindi animazione questo. Ok? Quindi avviamo fermo e gli aggiungiamo corsa. E le corse dobbiamo metterci però le altre cose che avevamo. Abbiamo un po' se. Scripts. Abbiamo GFX. Players. Mettiamo walk1, walk2. E facciamo un copia. Andiamo nel nostro progetto. E qui facciamo incolla. Così abbiamo anche queste cose. Vediamo. C'è il file manager. Perché non ha presa? Ah, perché c'è con. Ok. Dobbiamo togliere queste. Quindi qui abbiamo le altre cose. Andiamo in corsa. Abbiamo walk1, walk2. e questa qua è l'animazione di corsa. Ma in realtà è già posto. Perché essendo che lo script qui mi citava già corsa, lui lo prende direttamente. Quindi quando faccio il play di questa cosa, magari della scena complessiva, e faccio il run di questa, vedete che si riesce già a scegliere le due animazioni. Dunque, dice come fa vedere quando cambiano le animazioni. Allora, le animazioni le fai cambiare dallo script. Nello script a un certo punto gli dice $animatorSprite.play e gli metti il nome dell'animazione. Quindi qui, quando io ho creato il coniglietto, vedete che c'ha due animazioni, corsa e fermo. Per vedere la corsa devo cambiarla qua. Animation, fermo. Gli metto corsa. E a questo punto, se vado in 2D, vedete che lui mi fa vedere il... Tanto per vederlo meglio posso togliere la visibilità della collisione e vedete che... Cioè praticamente mettergli qua corsa dentro animation equivale a fare quello che fa lo script di metterci dentro animation uguale corsa. C'è lo script che mi ha visto qua. E a un certo punto dice $animatorSprite.play e gli mette il nome della corsa. Sì, è lo script che comanda tutto. Praticamente lo script è quello che anima tutte le modifiche. Perché voi non potete mentre gioca mettervi a mano mettergli tutti i dati. Quindi deve essere registrato dentro un codice. Quindi il codice dice tutto quello che fa. Il codice, come vedete, dice come saltare. Tra l'altro qualcuno mi ha chiesto prima come evitare di farlo saltare un po' più in alto e non soltanto quanto on the floor. E gli avevo detto che era sufficiente mettergli... togliere l'end questo. Quindi metterla così. Quindi facendo così, se noi eseguiamo di nuovo questa scena, adesso possiamo saltare in su. Poi c'era il discorso ancora della camera, giusto per vederlo. Perché qui possiamo aggiungere ancora una camera. Quindi la camera, camera 2D. E poi avevo detto bastava metterla current. In questo modo... No, c'era un trucco. Ah sì, no, bisognava mettere il coniglietto figlio... No, la camera figlia del coniglietto. Ok. E in questo modo... Sì, quasi. Vabbè, comunque adesso togliamo la camera per il momento. Tanto cerchiamo di risolvere soltanto i vostri dubbi su queste cose qua. Quindi... E qui abbiamo messo il salto. Quindi torniamo un secondino alle nostre domande. Salto multiplo. Gli ho tolto il... Ho tolto il ison floor. Quindi lui va su. Volendo si possono poi mettere nello script altre condizioni, tipo che non si possa saltare per più di due volte. Insomma, cose un pochino complicate, ma direi che comunque ci siamo. E poi c'è scegliere più di un'animazione su uno sprite. Direi che mi avete chiesto, ma spero di avervi risposto. No? Cioè, quando uno sprite ha più di un'animazione, lo scegliete dallo script. Siete soddisfatti di queste spiegazioni per il momento? Quando due sprite si incontrano. E adesso vediamo... Ma dunque, adesso la scena scorreva, solo che non l'ho preparata. Cioè, la scena già scorreva adesso, nel senso che stava scorrendo, ma non nel modo in cui mi aspettavo. Ma in questo momento se mi mettessi a cercare di farve la scorre, ci impiegerei troppo tempo, quindi faccio poi direttamente... Cioè, quello che ho fatto vedere stasera in lezione, magari lo rifaccio in un video simile a questo, ma che funziona bene. Perché qui potrei confondermi, appunto. Collisioni di sprite. Per collisioni di sprite facciamo l'esempio della monetina. Vi va bene? Ma molto semplice, non voglio fare delle cose complicate. Quindi 22-17 potremmo farcela, a farvi vedere le monetine. Quindi per avere le monetine, dobbiamo andare di nuovo a prenderci le monete che avevamo da qualche parte. Quindi qui abbiamo GFX. Oh, items. Bronze. Sarà questa? Vediamo un po' cos'è questa. Sì, questa è una moneta. Prendiamo una moneta ferma per il momento, senza nessuna cosa particolare. Facciamo copia. E poi qui andiamo in file manager. in colla. Bronze1.png Accontentiamoci. L'animazione la fate voi, no? Perché sennò non ce la facciamo di stasera a far vedere tutto. Quindi prendiamoci una monetina che ce l'abbiamo qua. Dovremmo farcela qua. Bronze. E la mettiamo come sprite da qualche parte. Per esempio qua, giusto per averla vicina. Allora, questo è uno sprite. In questo momento, se noi facessimo il run della scena, vedete che non c'è collisione fra il coniglietto Sì, certo. Vedete che io ci passo attraverso come se... Se questa monetina voglio veramente che non faccia collisione, ma che venga sullo sfondo, basta che, giusto così come riferimento, la metto prima del coniglietto, però dopo il texture rect, e in questo modo, se io ci vado, vedete che ci passo davanti. Avete capito come funziona l'ordine degli sprite? Adesso invece mettiamo la possibilità di collidere. Quindi per collidere questa monetina deve avere un'area di collisione. Quindi cominciamo a costruirla. Quindi facciamo più... Prendiamo collision... E c'è dunque... Beh, ho uno static body. Però c'era anche l'area 2D. Vero Emanuele? Mi sembra di ricordare che era l'area 2D che poteva verificare che ci fossero delle collision... Infatti è figlio di collision object. Quindi prendiamo un'area 2D. Nell'area 2D, vedete che mi sta dicendo che manca la collisione. Quindi gli mettiamo... All'area 2D gli mettiamo intanzitutto la monetina in collisione e poi dobbiamo metterci l'area di collisione per l'appunto che costruiamo con una... Sempre collision, ma una collision shape 2D perché mi sembra che ci sia un cerchio a disposizione qua. Cycle shape. Ok. La cycle shape vedete che l'ha messa qua su. la prendo, questa collision shape 2D e cerco di fare in modo tale... Clicco qua per metterla in modalità scalata e la scalo in modo tale che... Ok. Vedete che faccio in modo tale, se ci riesco... C'è molta pazienza che sono tipiche cose che io non ho. Però volevo scalarlo tutto. Ecco così. Voi con la vostra infinita, la vostra pazienza la metterete esatta. Ok, così va già bene. Quindi collision shape e quindi queste cose collidono. Ora, dovrebbe già essere così. Tra l'altro magari facciamo un bel... Blocchiamo in modo tale che questa area, se per caso sposta la moneta si sposta anche l'area di collisione. Perché la cosa che anche Emanuele si è scontrato i primi giorni è che se non mettete questo e poi muovete per errore muovete soltanto la moneta di bronzo l'area di collisione non si muove insieme. E questo non va bene. Quindi noi usiamo questo, questo blocco che accerta che i figli dell'oggetto non siano selezionabili in modo tale che anche se io provo a selezionare un pezzo... No, in realtà... Me la fa selezionare... Comunque in realtà serve per poterla avere. Allora, adesso in teoria dovrei poter collidere. Quindi se noi facciamo il replay di questa cosa vedete che si era fermato. E perché non è andato avanti? Fai un po' vedere. Quindi lui ha fatto il nuovo slide quindi avrebbe dovuto collidere un po' vedere. Le proviamo. Un po' vedere. Dunque... Ah, perché questo è solo un'area 2D che si accorge di essere... che qualcosa è successo ma non fa una collisione come il corpo fisso. Se volevamo che collidesse nel senso che fosse un oggetto tipo la piattaforma dobbiamo metterla non come area 2D ma dobbiamo metterla proprio come un body come un static body Ok. Allora, adesso avendolo messo non penso riuscito a metterlo come body no, è sempre area 2D ah, tipo static 2D quindi il nome R2D però chiamiamola moneta per evitare confusione però questa moneta è diventato nel frattempo è diventato uno static body. Vediamo adesso cosa succede quindi sperimentiamo e vedete che c'è la collisione cioè non mi avvicino di più quindi in realtà la collisione si comporta seguendo la collisione il fatto che non segue esattamente come mi aspetto è perché l'ovale di collisione di questo signore non è perfetto no? quindi torniamo a a vedere il coniglietto la scena del coniglietto vediamo la collisione ecco, vedete che la collisione qui è fatta in questo modo che non è proprio quella che infatti lui collideva già qua proviamo a vedere se riusciamo a modificare leggermente questa area di collisione in modo tale da essere più realistica ecco così collidano i piedi collide fino alla testa ma non colliderava più prima no? avete capito no? come è spostato l'area di collisione quindi se io vado salvo vado su questa scena il background e la ripeto ecco a questo punto mi avvicino vedete che la collisione è fatta meglio vedete che collide con i piedi e poi se la moneta è più in alta in realtà posso passarci sotto anche con le orecchie quindi se questa se vado sulla moneta la alzo un po' così e ripeto la scena no? troppo alta ah sì perché questo si abbassava quindi la abbasso un po' questo anche posso leggetto mettiamolo qua così lo controlliamo meglio ecco così vedete che le orecchie passano attraverso la collisione però non collide se però salto vedete che collido vi è più o meno chiaro questo fenomeno di come si controllano quindi cosa collide almeno questa è una cosa abbastanza semplice però si lavora con quello ora la cosa interessante è far succedere qualcosa quando c'è una collisione siete d'accordo? cioè se io collido vorrei poterlo conquistare questo oggetto allora lo facciamo in maniera vediamo se riusciamo a farlo nel modo più semplice possibile quindi vado nella mia moneta esistono degli eventi che possono succedere quando sono su un oggetto questi eventi non abbiamo ancora parlato ma si possono definire cliccando qua su nodo su nodo vedete che ci sono varie cose ma noi andiamo nella proprio nella parte della collisione questa dunque no allora per fare questa cosa qua secondo me conviene farlo tornare a essere nella come era all'inizio quindi facciamo l'area che abbiamo messo che era un area 2D perché così riusciamo a fare proprio la come sto facendovi vedere nel senso che questa è una moneta che basta che sia collisa per essere conquistata quindi l'abbiamo messa come area 2D e quando andate in un area 2D i segnali che puoi mettere questa cosa possono essere anche semplicemente body entered body entered vuol dire che qualcuno accollisce un corpo entrato dentro un corpo fisico entrato dentro l'area di collisione di questa moneta allora prima cosa conviene fargli aggiungere uno scriptino alla moneta perché la moneta gli diremo di sparire quindi creiamo uno script che per il momento è vuoto e poi andiamo dunque stiamo ah no forse lo script lo mettiamo proprio nella scena perché purtroppo non possiamo dare i segnali dunque no togliamo lo script da qua lo script che farà la cancellazione della moneta che riceverà questo evento lo mettiamo qua a livello principale background qui gli aggiungiamo questo script vuoto e poi diciamo che la moneta quando entra qualcuno dentro la moneta diciamo body entered diciamo di andare a segnalare che è entrato un corpo a uno script che si trova dentro appunto background che è questo dove abbiamo messo lo script a questo punto lui ha messo proprio qui un pezzettino di codice che noi possiamo scrivere una cosa molto semplice che è dollaro moneta punto no aspetta cos'era non ricordo cos'era dollaro moneta punto ah q free ok questo comando q free che sembra una cosa strana dovrebbe nell'intenzione far sparire la moneta ritorna Emanuele dovrebbe sparire la moneta giusto? e magari non funzionerà comunque l'idea è questa cioè che praticamente vedete che qui una volta che ho messo il segnale è comparso questo simbolo questo simbolo vuol dire che la moneta diventa reattiva cioè vuol dire che se succede qualcosa alla moneta lei lancia un segnale e se clicco qua quindi adesso torniamo un attimo per dire qua se io sono sulla moneta e clicco sul segnale e mi fa vedere che c'è questo segnale on moneta body entered e cliccando qua due volte vado nel codice che si trova qua su che è quello che in teoria dovrebbe far sparire la moneta vediamo se è vero quindi facciamo un play della nostra scena e quindi vediamo vedete che qui non è entrato ancora il corpo ma se mi alzo vedete che è sparita la moneta avete notato? non so se si è visto dalla dalla cosa quindi questo è detto un pochino più per certi versi più semplice intanto vedete che lui continua a scivolare ok se voi questa moneta la volete ne volete mettere diverse di monete è sufficiente fare un salvaramo come scena quindi facciamo un moneta appunto tscn ok e poi aggiungiamo altre monete sparse per dire possiamo metterne un'altra anche più su qua quindi possiamo fare ecco duplichiamo questa cosa con ctrl D e poi questa seconda moneta la mettiamo qua moneta e moneta 2 adesso in teoria tutte e due le monete dovrebbero potersi prendere senza dover scrivere nient'altro perché le due monete sono identiche quindi lanciano dei messaggi ognuno lancia dei messaggi praticamente al dovrebbe vediamo un po' severo no magari vado sul background lancio no è partito abbiamo perso il 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 la cosa quindi bisognava forse farlo qua moneta aree 2D body entered li rimettiamo non mi lascia mettere il quindi dobbiamo farlo sul background ci deve essere un modo per fare in modo tale che entri senza dove lo ripetere body entered facciamo background ok e quindi c'è moneta 2 body entered background mi ha fatto ah perché sono due monete ok quindi anche qua bisogna fare dollaro moneta 2 punto q free probabilmente Emanuele vi farà vedere un modo per farlo senza doverlo ripetere per ogni moneta dico bene però così dovrebbe funzionare se queste due monete diventano reattive i passaggi dunque come ha fatto ad associare una moneta con l'evento che qui in sintesi io dentro il background che è il livello questo qui possiamo chiamarlo il nostro livello o gioco possiamo chiamarlo per dire qui ho messo uno script che ogni volta che viene chiamato da un segnale questo segnale dice che è entrato un corpo dentro sulla moneta no? quindi ogni volta che è entrato un corpo nella moneta questo su questa moneta gli si dice di buttarla via se è entrato un corpo nella moneta 2 gli si dice di buttare via la moneta 2 dollaro è un è un'artifizia per dire dato un nodo di andare a cercare il figlio di questo nodo che si chiama con quel nome quindi dollaro moneta riparto da qua e dice moneta chi è questa e poi gli dice q free per buttarla via come ho fatto ad associare la moneta quindi aggiungerci questo simbolo semplicemente sono andato in moneta qua sono andato su nodo e qui mi sono comparsi i segnali e poi sono andato a cliccare su body entered facendo body entered mi ha fatto vedere tutti i nodi e dice ok body entered a chi devo informare che è entrato un corpo dentro la moneta quindi io ho cliccato per su su gioco dove c'era lo script e lui automaticamente mi ha creato o mi ha aggiunto quindi mi ha mandato mi ha creato questo collegamento quindi è fatto più o meno così comunque adesso magari lo cercheremo anche di spiegare meglio nei video della prossima settimana per spiegare come si riesce a fare questo mestiere invece il modo in cui l'aveva spiegato Emanuele era più bello per certi versi ma un po' più complicato nel senso che il giro avvediva attraverso un'animazione cioè la moneta quando veniva collisa produceva un'animazione e l'animazione a un certo punto chiamava la funzione della moneta per cui lei moriva però è un po' più indiretto quindi concettualmente noi adesso abbiamo un gioco pronto nel senso che possiamo andare qua per raccogliere le due monete tra l'altro le monete oltre a essere monete propriamente dette potrebbero essere dei portali nel senso che se io vado invece di sparire la moneta potrei mandarmi a livello successivo di gioco oppure appunto dare dei punteggi o altro è più chiaro un'altra cosa che di solito si fa nei giochi è di mettere proprio dei numeri sopra che indicano il numero di vite il numero di punteggi eccetera chiaramente non ve lo faccio vedere adesso perché è leggermente complicato comunque tutto si gioca nell'inserire degli opportuni pannelli che su cui compaiono e farli dialogare sempre con i segnali sì, quel punteggio diventa molto più elegante ok poi se vuoi invece di fare il cue free fa anche il suono diventa anche più anche più bello tac tac per mettere i posti quindi fate le cose tenete conto che molti di questi concetti valgono anche per il 3D quindi si possono fare qui si sarà al posto di al posto di questi animaretti ci si muoverà in uno spazio tridimensionale anche lì ci saranno delle aree di collisione che quando saranno incontrate emetteranno dei segnali comunque sui segnali credo che questi giorni faremo vedere quindi il mio obiettivo è quello di far vedere questo gioco qua con uno sfondo così cercheremo di farci seguire la telecamera non so perché adesso non sono riuscito a farla seguire nell'esempio che vi ho fatto fare però siamo riusciti a fare quasi tutto quindi le monete allora l'animazione delle monete no non l'abbiamo fatto no come inserire le monete ma sì solo che secondo me sai cosa che bisogna proprio quello che è sbagliato secondo me vedi che sono questi questi sono i punti centrali questo qui è il punto centrale della moneta questo è il punto centrale della moneta 2 in teoria secondo me funzionerebbe se questi punti corrispondono con le rispettive scene magari ci provo un secondo prendiamo il coniglietto vedi che c'ha il ecco il coniglietto e dove è il centro di questo coniglietto qui sembra centrato in effetti però non lo è nel senso che se vado qua quando clicco su coniglietto in realtà il moneta 2 moneta 1 ah qui c'è il gioco quindi forse il coniglietto c'è comunque il problema credo che sia sul modo di fare le scene in modo tale che siano accentrate devo vederlo ancora meglio in realtà non so se avete capito anch'io sto imparando tutto questo ambaradan di cose ah una cosa se per caso io vi ho detto che c'è il corso su Udemy è vero corso su Udemy non so se ci sia forse c'è ancora lo sconto del 90% perché se cerchiamo ed è ancora per un giorno quel corso famoso che sto seguendo perfilmente che si chiama Discovery in Godot questo corso l'hanno messo di nuovo disponibile da due giorni a questa parte a a a 9 a 9 euro e 99 e fa esattamente quello che quello che stiamo dicendo quindi se volete prenderlo e infatti le sto prendendo molte cose le sto prendendo da lì il corso è in inglese ma la la parte che comunque alcune delle cose che fa che dice sono anche vicine a quella che ho visto sì però dice cose ancora un po' aggiuntive soprattutto da tutto il materiale cioè tutto quel materiale che stiamo usando conigli, coniglietti eccetera sono forniti da questo corso non che sia illegale per me distribuirvi anche queste cose perché sono tutti componenti open source ma sicuramente è giusto che vi dica da dove ho preso l'ispirazione senza dubbio questo giochino in realtà non l'ho non l'ho creato io da nulla con le mie sole energie ma l'ho preso a mia volta seguendo questo corso e anche Emanuele sta seguendo questo corso tanto fatto no? cosa ne pensi Emanuele di quel corso? ok non so se ci sono qualche altra domandina è infatti quello è il problema di quel corso che è un po' lunghetto e tra l'altro il primo capitolo del corso quando l'avevo fatto mi stavo annoiando morte perché il primo capitolo di questo corso vediamo lo faccio vedere dunque prima di Hoppy Days faceva vedere questa cosa che era il Looney Lips e il Looney Lips era tutta una roba cioè quindi due ore, tre ore di corso in cui spiegava come fare semplicemente un giochino dove faceva una specie di storytelling e io questo ve l'ho saltato a pie pari perché se lo facevamo ci perdevamo troppo e invece io vi ho mandato appunto tutti quei tutti quei video anche di corso in italiano che secondo me sono ottimi quindi guardateli pure, quelli di Crystal Beat non so se parlino anche loro di collisioni io non li ho guardati tutti ne ho guardati alcuni chi di voi li ha guardati ha visto se parlano delle collisioni? Ecco, poi come dicevo prima ci sono infiniti modi per fare la stessa cosa quindi è possibile che le cose che vi sto dicendo siano fatte diversamente in quel corso lì però più cose guardate e meglio è per certi versi ah, e comunque anche sul movimento degli sprite se voi cercate movement 2D Godot quello che stavo facendo vedere a Emanuele prima dell'inizio del corso qui dice ah, la prima cosa dice l'impostazione dei tasti questo qui l'avevamo già visto insieme lo sapete fare i tasti? no? ecco perché questa cosa qua è una cosa molto confondente il Godot se uno non la sa quindi magari ve la faccio rivedere un secondino di nuovo cioè in pratica ogni progetto nell'impostazione di progetto ha i tasti che si possono premere e questi tasti possono essere dei tasti che scegliete voi quindi noi potete anche scrivere un'azione e chiamarla ad esempio su e poi aggiungete l'azione e poi qui gli mettete l'azione su gli potete dire che è collegata al tasto oppure al joystick oppure al mouse però diciamo il tasto e gli mette che su è collegata al tasto W e poi potete mettere anche un'altra azione potete mettere giù invio e giù lo potete collegare al tasto S no? sono classiche cose così a quel punto una volta che avete fatto questa impostazione quando andate su lo script qui al posto di ui app potete scrivere anche su quindi questo serve per poter diciamo creare delle azioni vostre quindi potete mettere anche un'azione che si chiama livello successivo per dire che è associata a un tasto oppure un salto eccetera eccetera quindi qui dove dice progetto impostazione del progetto ci sono molte cose interessanti e tra l'altro c'erano anche quelle cose sulle dimensioni che adesso non mi ricordo più dove erano ah display window qui dite praticamente qual è la grandezza delle dimensioni dello schermo quando se voi volete che lo schermo sia un po' più grosso quando viene lanciato potete cambiare questa impostazione e quindi a questo punto quando fate il run vedete che vi viene più grosso forse questa era anche una specie di domanda fatta all'inizio no? tac, tac e poi vediamo meglio come fa seguire la telecamera perché se io adesso gli mettevo la telecamera ci riprovo eh ma non credo che di riuscirci camera 2D camera 2D abbiamo detto che è figlia del coniglietto camera 2D current inspector current e poi proviamo a vedere cosa succede eh segue ma è posizionata male perché secondo me c'è quel difetto lì a meno che camera questa aspettate c'ho la camera ah si figlia del coniglietto ma secondo me il coniglietto se io lo metto qua no non devo studiare ve lo faccio vedere bene con caldo allora sentite io per stasera direi che vi ho già detto un sacco di cose diciamo che il 50-60% più o meno l'abbiamo già visto la parte che non abbiamo visto sono i segnali però il resto su per giù qualcosa vi abbiamo detto e quindi da adesso in poi sulle collisioni almeno le collisioni direi che ci siamo e quello che vi ho fatto vedere no? non è questo c'è l'impostazione del progetto display window e qui ho messo le dimensioni e poi potete mettere coi bordi potete metterlo anche full screen always on top insomma potete mettere alcune cose di cui alcune sono importante e altre un po' di meno però direi che la parte se volete farlo molto piccolo in partenza la prima schermata la fate piccola così e quando parte vedete che parte il giochino piccolo ma il punteggio io direi lo faccio l'ingrandimento cioè questo pezzo qua ve lo faccio vedere dicevo con calma il punteggio lo farei magari come video non sto a fare un'intera lezione sul punteggio perché se no sì comunque magari lo vediamo anche un secondino la prossima volta il punteggio però poi dopo lasciamo un po' il 2D non perché non ci sia non perché sia finito perché ci sono infinite cose ancora sul 2D ma perché a noi in realtà di Godot ci piaceva moltissimo la parte 3D e quindi io vorrei cominciare la parte 3D altrimenti non non finiamo il corso poi è chiaro che possiamo fare eventualmente altri corsi di Godot magari specifici sul 2D diciamo che la parte che a me interessava all'inizio era semplicemente farvi vedere come fare un animaretto che si muoveva e che poco più insomma che si scontrava abbiamo fatto secondo me più il triplo di quello che pensavo di fare sul 2D 2D è proprio detto al 3D nel senso che poi tutti questi concetti che stiamo vedendo di scena di segnali di script e si conserveranno anche di là quindi cambia un po' di cose perché la collision non è proprio uguale nel senso che la collision nel 3D ad esempio non la dipingete col mouse come abbiamo visto adesso ma la collision viene fuori da blender non la potete inventare più di tanto al limite ci sono delle forme di collisione 3D già predisposte che sono tipo cubo capsula eccetera ma non ci diventerebbe un massacro mettersi a fare una una shape una gabbia fatta qua cioè non è predisposto Godot per poter progettare in 3D quindi Godot parte con il fatto che le cose siano già state fatte va bene allora se siete d'accordo io per adesso per oggi di lascerei spero che vi sia stato di gradimento la registrazione dovrebbe esserci e comunque cercheremo di fare anche un video riassuntivo con Emanuele che mi darà una mano e di nuovo buona serata